E' una tappa per le fughe da lontano. La salita di Portella Mandrazi è il trampolino di lancio perfetto per una fuga, ma ci vogliono coraggio, convinzione, qualche compagno di fuga e ovviamente gambe buone. Stiamo percorrendo la parte finale della salita di Portella Mandrazi. Una salita lunga, di 20 km, con pendenze medie del 4%. Non è certo una salita impossibile per gli uomini di classifica, un po' più da gestire per le ruote veloci. In cima sarà posto il Gran Premio della Montagna di terza categoria. Un trampolino ideale per i coraggiosi in cerca della fuga di giornata. Ci vorranno gambe però, in salita e testa, in discesa. Una discesa veloce, tecnica, che porta giù verso il litorale nord della Sicilia. Grazie. 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 Grazie.